Una visione ignobile, non ci sono appellativi. Un abominio, mai i miei bulbi oculari furono cotanto offesi, che mi si asportino le corne a ciò che non debba mai più percepire, si fatte monnesse filmiche. Non so come, ma a me il cinema di Alessio Nencioni riesce sempre a farmi eccitare. A voi, a voi, no? Senza love e ne infamia. No. Per bacco, che magnificenza! Vado tosto a tatuarmi il volto del regista su tutto il costato! Urge, urge il tatuatore! Ma che cazzata ci avete fatto vedere? E te che vuoi un pietacine presa? Vai, va via! Se volete saperne di più, continuate a seguirci spasmodicamente e vi assicuro che non ve ne pentirete. Ma che cazzata ci avete fatto vedere? E te che fanno così sta bene camere, oh! Scusate.